Bentornati e bentornati sul canale, oggi un altro video sul tornio e vedremo come realizzare il pumo pugliese, il corpo del pumo senza le foglie, le foglie vedremo come farle in un altro video, vedremo come farlo al tornio super economico come al solito e sempre in descrizione vi lascio il link per acquistarlo. Se vi piacerà questo video mi raccomando mettete un like, condividete ma soprattutto iscrivetevi al canale, mettiamoci subito al lavoro e vediamo come fare. Allora in questo video vediamo come appunto fare il corpo del pumo pugliese, partiamo da dire dalla centratura, facciamo una centratura, vi lascio qua su il video della centratura, facciamo una centratura non troppo estesa sul piatto ma un po' più alta e diamogli già una prima scalanatura col mignolo, quando andiamo a centrare pressiamo un poco più col mignolo verso l'interno per dargli questa forma un poco a fungo. Quindi apriamo il centro ma chiaramente non dobbiamo arrivare fino alla fine perché una parte di argilla ci servirà per fare il piede del pumo. Quindi facciamo un'apertura di 3-4 centimetri in questo modo, inseriamo il dito e tiriamo lievemente verso l'esterno, inumidiamo e quello che facciamo è stringiamo già lievemente questa parte e adesso mentre saliamo, mentre stringiamo l'argilla iniziamo già a dare una forma al nostro pumo, in questo modo qui. Comprimiamo sempre il bordo, svasiamo un poco questa parte qui in fondo, qui saliamo dritti e qui stringiamo un poco verso l'interno. Ora asciughiamo tutto e togliamo anche l'acqua all'interno perché dopo sarà più complicato, inumidiamo dall'esterno e in poco poco col dito dall'interno e quello che facciamo è di chiudere, iniziare a chiudere la parte superiore in questo modo qui. Lasciamo sempre un po' più di argilla al bordo. Diamo un'ulteriore curva, andiamo qui a svasare un po' di più, adesso ci riprendiamo verso il centro, in questo modo qui, e andiamo direttamente a chiudere a punta il nostro pumo, stringendo sempre verso l'interno, in questo modo qui, e anche dall'esterno chiudendolo in questo modo qui, e creando la punta del pumo. Possiamo scegliere poi gli stili, se la vogliamo più a punta, meno appuntita o diciamo decideremo un po' come avere la punta. Quello che facciamo adesso è spingere qui, stringere e quindi l'argilla andrà verso l'altro e creeremo il piede, il collo diciamo del piede del pumo. Inumidiamo un altro poco, stringiamo, vedete con questo dito sto tenendo il pumo in centro, nel centro, ok. Ridisegniamo la curva del pumo, lui cerca un po' di perdere la centratura. Possiamo dare dei piccoli segni qui, delle piccole scalanature col dito, questo chiaramente è tutto un effetto stilistico, poi dipende da pumo a pumo come lo vogliamo, e stringiamo ancora un pochino e ritorniamo in asse. Facciamo una scalanatura qui, una alla base, e il nostro corpo del pumo è pronto. lo asciughiamo, togliamo un po' di barbottina, cerchiamo di togliere la barbottina alla punta mantenendo la centratura del pumo, in questo modo qui. Con la spatola togliamo un piccolo piedino come al solito. Ora come facciamo a togliere il pumo? Praticamente fermiamo il tornio, come al solito un paio di spinte, ci asciughiamo per bene le mani, prendiamo una basettina in legno e lo tiriamo praticamente da qua sotto e lo poggiamo in questo modo qui. Facciamone un altro. Allora centratura, quindi l'abbiamo già, un poco poco più diciamo dritta, un po' a fungo. Apriamo di 3-4 cm, poi chiaramente dipende dalla dimensione del pumo, questi sono abbastanza piccoli. Iniziamo, spingiamo verso l'interno e anche iniziamo a tirare l'argilla, dandogli già una forma piuttosto curva. Vedete, sembra quasi un bicchierino, quindi possiamo già spingere un poco. Cerchiamo sempre di farlo piano senza perdere la centratura. Spingiamo verso l'esterno per dargli la curvatura, adesso qui verso l'interno. Togliamo un po' d'acqua, chiudiamo già verso l'interno. Mignumidiamo un poco in questo modo. Quello che faccio è stringere praticamente il collo di questa parte verso l'interno, potrei farlo anche così pian piano. Spingiamo sempre un poco al fondo, adesso accentuiamo la curvatura qui, rientriamo verso l'interno e adesso andiamo direttamente a chiudere in questo modo qui. Prima dall'interno e poi dall'esterno. Questo facciamogli una punta un po' più appuntita. Quindi poi spingiamo un po' qui per creare quel piede. Diamogli una scala natura come segno, solo giusto di abbellimento. Spingiamo un altro poco, cerchiamo di raddrizzarlo e fargli riprendere il centro. Abbassiamo un po' con la velocità del tornio. Scala natura e anche qui. Queste sono giusto, diciamo, forme di abbellimento del pumo, non sono niente di funzionale, diciamo, ma solo estetico. chiaramente poi dovremmo attaccare, una volta che sarà un po' più asciutto, attaccheremo le foglie del pumo, che di solito si fanno con degli stampi in gesso. E non ci dobbiamo poi dimenticare di, una volta che si è asciugato un poco, di forarlo. Possiamo scegliere di forarlo direttamente da sotto o dal lato, perché essendo una forma chiusa l'aria deve liberarsi in qualche modo. Se non lo facessimo potrebbe creparsi, quasi sicuramente si creperebbe. Quindi prendiamo il nostro filo, un paio di tagli da sotto, ci asciughiamo per bene le mani, prendiamo la nostra basetta e solleviamo il pumo da qui, in questo modo. Voilà!